La Valle Pelini e l'Abruzzo piegono la morte del poeta Ottaviano Giannangeli, se ne andarono in punta di piedi allo stesso modo di come entrava nella vita delle persone, ieri mattina alle 4.30, all'età di 94 anni, ad annunciarlo su Facebook che il nipote Raffaele Giannantonio, la carriera del poeta, nato a Raiano il 20 giugno del 1923, prende inizio dagli studi compiuti a Firenze. Dal 1964 inizia il lungo percorso dell'insegnamento, prima liceo classico d'Annunzio di Pescara, poi all'Università d'Annunzio e Facoltà di Lingue, dapprima come assistente e poi come professore associato di letteratura italiana moderna e contemporanea. Sarà infine fino a 1993 professore fuori ruolo. In questo periodo ha formato generazioni di studenti che ancora oggi lo ricordano con gratitudine come maestro inflessibile e coltissimo, pronto a gettare fasci di luce moderna sulle esigenze culturali di quegli anni. Giannangeli è stato un poeta di grande spessore, in dialetto e in lingua. Tra le sue opere in versi, canzoni del tempo imperfetto, poesia come sedativo, antologia poetica e lingua in dialetto, lo libro d'Ottavia, ma è stato anche critico e saggista. Pascoli è lo spazio, metri che ha significato in D'Annunzio e Montale, con una lettera autografa di Montale, D'Annunzio e Labruzzo, scrittura e radici. Organizzatore culturale, creatore di riviste, fondo a Sulmona, dimensioni, poi trasferita a Lanciano, intorno alla quale si raccolse un genacolo formato da sgattoni, rosato, panza, clemente ed altri ancora. Fu anche uno dei fondatori e ispiratori della maggiolata abruzzese, un insieme di manifestazioni folcloristiche, tra le quali la tanto amata Sagra delle Ciliegie, della sua Raiano, che ancora oggi ha nel suo programma annuale una sua poesia a commento dei fatti degli ultimi anni, e anche romanziere, sposare una, e commediografo, quattro chiacchiere con Dante. Inutile dire che Labruzzo ha perso un gigante della cultura, un vero pilastro, Raiano oggi è lutto cittadino.